Sì, sono in giro per le province perché Geoikos è una rassegna inventata dalla regione per mettere in mostra presso la straordinaria e bellissima fiera internazionale di Verona le eccellenze del Veneto nell'ambito proprio del piano regionale territoriale di coordinamento che impernia sul terzo Veneto gran parte della sua programmazione. Che cos'è? Una rassegna di 150 espositori, pensavamo ne arrivassero 100 invece siamo a 150, dove le eccellenze del Veneto e delle sette province nell'ambito dei progetti sia del pubblico che del privato, di stakeholders come di istituzioni pubbliche e delineano le novità che vedrete realizzarsi nei prossimi 20 anni. Quindi nell'elaborare il piano regionale ci siamo resi conto di una grande e fervida fantasia dei nostri progettisti e quindi abbiamo pensato di metterli in mostra attraverso una rassegna. Speriamo molto nella contaminazione che avverrà fra le sette province e io in questo tour spiego a ogni provincia quali sono le aziende pubbliche e private che partecipano a questa rassegna a Verona la prossima settimana e quindi trovo comunque grande attenzione. Diciamo che la rassegna è rivolta soprattutto alle amministrazioni, ai decisori eccetera, ma è anche rivolta al grande pubblico. Coloro che parteciperanno, invito gran parte, invito tutti i cittadini a partecipare, vedranno come sarà il Veneto nei prossimi 20 anni, che cosa si realizzarà dalle grandi fasce della pedemontana ai grandi realizzazioni per esempio della città della musica, la città motoristica a sud di Verona, le autostrade che attraverseranno il Veneto, le nuove capacità di programmazione territoriale, la ricerca sull'idrogeno dove le utilizzazioni pratiche cominceranno fra qualche anno ad essere appannaggio di ogni cittadino. Ecco perché la mostra sul futuro è proprio per noi Geo Oikos e invito proprio tutti a venirla a vedere.